Leonardo Pavoletti La settimana prossima con la Ternana, cosa prevedi? Prevedo un'altra grande battaglia, ora festeggiamo stasera ma da domani dobbiamo essere già con la testa concentrata, insomma se vogliamo fare qualcosa, raggiungere soprattutto la salvezza il prima possibile non dobbiamo mollare dopo una vittoria così ma dobbiamo dare seguito a grandi prestazioni. Ok, complimenti.